Buongiorno, buongiorno a tutti! Oggi sono la regista di me stessa. Bene, allora volevo ricordarvi una cosa. Questa sera su Discord c'è la seconda puntata del Cal di questa maglietta. Guardate quanto è bella! Ciao Vicky, un caro saluto! E stasera siamo su Discord nella stanza di Far Filò di Patricia e insieme lavoreremo questa splendida maglietta. Io ho già iniziato e ho fatto il bordino del collo con il filato 27. Stupendo questo collo, eh? Stupendo! E la lavorazione della maglietta proseguo con il King. Del King sto usando tutti i fine rocca che mi sono rimasti perché sapete che nella pagina ci sono solo due colori e purtroppo la ditta non ha ancora rifornito le scorte. Quindi vi presento la nuova Lollina perché l'altra aveva il corpo di ceramica e l'abbiamo rotta. Quindi questa sostituisce la Lollina e la Lollina 2. È carina, vero? Guardate che bel primo piano! Che bel faccione che c'ha questa pecorella! Bene, la nostra bustina pecorelle e tutto quanto. Quindi io sto sferruzzando a gogo e mi raccomando partecipate a questo Cal insieme a Vicky che ci ha proprio spiegato questa maglietta nei minimi particolari. Quindi benissimo! E non è difficile perché comunque Vicky fa dei pattern molto molto dettagliati. Quindi forse vi faccio venire il mal di mare, non sto ferma. Non sono molto brava come regista, però bisogna accontentarsi. È così oggi! Quindi vi saluto, vi dico di uncinettare e sferruzzare che vi fa sempre molto ma molto bene e un grande abbraccio a tutti! Ciao!